e domani 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 sicuro vengono capito però capito perché che sarebbe che tu che hai detto prima non ho capito abbiamo vabbè non ti arrabbiare però ma se no che ne so io ma vale ma che ne so io se non possono venire stasi ma se non gli posso telefonare telefono loro mi hanno detto domani sicuro vengono domani sera verso o le quattro voi quando volete che vengono domani quando è giorno o poi più tardi vabbè ma se stasera non vengono che succede scusate ma perché ma non l'hanno fatto apposta non l'hanno fatto apposta a non venire sei contento comunque che vengono domani io dove lo prometto domani vengono va bene valerio va bene adesso finiti da mettere a posto così domani vengono va bene no ti dispiace che si sia amato tutta la casa perché dovevano venire si e allora li facciamo venire si e li facciamo venire pure stasera e allora vi dico che mi hanno chiamato che vengono do stasera vengono quando vengono stasera e chi viene lorenzo e maria 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 mar sono scusato si fanno scherzetti papà no è vero che tu hai gli occhi brutti dopo sei uscito con occhi brutti saluta ciao ciao lorenzo ciao lorenzo